E finalmente siamo in affitto in un posto carino a Roma E quindi ve la faccio vedere Non solo c'è questi arazzi alla parete che mi piacciono molto C'è questo posto dove cambiarsi le scarpe Che io dico carino che sei E sulla destra questo mobile molto carino Che in realtà è una malm di Ikea Dove abbiamo messo tutti i nostri vestiti Devo dire geniale Dopodiché vase importante Quadro importante Divanno comodo che diventa anche letto Quell'altro coso diventa un letto pure lui Altro quadretto niente male E un monito siamo nella casa di gattari Prende carine se le chiudi diventa tutto scure Puoi fare la nina nanna bene veati Questo è il letto un po' stropicciato Ma insomma ragazzi Vedete che nelle camere da letto uno ce vive Ce dorme eccetera si stropicciano Non date retta all'instagram Altro quadrone quadrone Vabbè avete capito i quadroni E poi si prosegue per di qua Ma questa era la situazione quando siamo arrivati Mentre adesso ragazzi miei Vita vera di nuovo Visto che qui stiamo a lavorare Il computer mio ho tutta una roba mia L'iPad eccetera La postazione sua E finalmente siamo in affitto In un posto carino a Roma E quindi ve la faccio vedere Non solo c'è questi arazzi alla parete Che mi piacciono molto C'è questo posto dove cambiarsi le scarpe Che io dico carino che sei E sulla destra questo mobile molto carino Che in realtà è una malm di Ikea Dove abbiamo messo tutti i nostri vestiti Devo dire geniale Dopodiché vase importante Quadro importante Divanno comodo Che diventa anche letto Quell'altro coso diventa un letto pure lui Altro quadretto niente male E un monito Siamo nella casa di gattari Prende carine Se le chiudi diventa tutto scuro E puoi fare la nina nanna Bene veati Questo è il letto un po' stropicciato Ma insomma ragazzi Vedete che nelle camere da letto Uno ce vive Ce dorme E ce da se stropicciano Non date retta all'instagram Altro quadrone Quadrone Vabbè avete capito i quadroni E poi si prosegue per di qua Ma questa era la situazione Quando siamo arrivati Mentre adesso ragazzi miei Vita vera di nuovo Visto che qui stiamo a lavorare Il computer mio Ho tutta la roba mia L'iPad eccetera La postazione è sua La situazione